Allora mister, ieri avrà visto sicuramente la partita del Napoli e della Roma, come mai questo Napoli grande con le grandi e piccolo con le piccole secondo mister Fusi? Ci sono anche magari delle serate particolari dove non si riesce a essere quello che si potrebbe essere, però dobbiamo anche tenere presente che essendo impegnato anche in tutte le competizioni, il Napoli magari in campionato ogni tanto tira un po' il freno. Sì, è vero che questo Napoli però ha perso troppi punti con le piccole squadre, la statistica ci dice quasi 18 punti, con questi 18 punti il Napoli poteva essere anche a un tiro di schioppo proprio da Mario Embrus, secondo me è più una questione di mentalità o di cosa? Cioè che questo Napoli con le grandi squadre difficilmente fallisce, però con le piccole a volte ha concesso troppi punti? No, però ripeto, essendo che in molte partite questi punti sono stati persi magari quando c'erano di mezzo le competizioni o l'Europa League, o la Coppa Italia, che giustamente il mister ha preferito fare turn over sapendo che queste competizioni per Napoli erano importanti, dando sempre valore al campionato, ma sapendo che in questo momento la Juve ha qualcosa in più e quindi si è buttato su competizioni che possono dare grandi soddisfazioni a tutto l'ambiente. Certo mister, la difesa insomma sembra essere cresciuta molto grazie soprattutto allo apporto che sta dando finalmente Fernandez, mentre le maggiori crepe sembra vivere il centrocampo o no? Il centrocampo ancora con l'avvento anche di Giorginio il mister sta facendo tanti esperimenti e l'importante è che proprio la difesa in questo momento dia delle garanzie importanti perché da lì si può costruire qualcosa di importante e l'attacco non si discute perché è un reparto completo, c'è da migliorare questo centrocampo e da aspettare questo Giorginio che ha dimostrato già delle buone cose in Italia. Le piace Benitez un allenatore mister? Sì, molto bravo soprattutto nella gestione di tutta la rosa e nei momenti importanti ha avuto una gestione importante di tutto il gruppo, anche se è normale che da qualche parte devi pagare qualcosina, però lui l'ha gestita molto bene. Anche Ventura è vero, è molto bravo, un'altra sua ex squadra è Torino che lunedì affronterà questo Napoli, come volete questo Torino di Ventura? Ha fatto e sta facendo un buon campionato, ha un attimo rallentato con queste due sconfitte con la Sampdoria e con l'Inter e questo ha raffreddato quegli entusiasmi che si erano creati prima perché la squadra sembrava destinata ad arrivare vicino alle primissime, adesso c'è stato questo rallentamento che però fa sempre sì che la squadra sia in una buonissima situazione di classifica. Eh sì, però effettivamente Torino è riduce da queste tre sconfitte consecutive e arriva il Napoli, una bella partita che annuncia sulla carta da questa di lunedì. Sì, anche perché il Napoli giustamente vede ormai la Roma vicino e quindi crede anche a questo secondo posto, l'unica cosa è che questo Torino venendo da queste tre sconfitte ha sicuramente bisogno di fare un risultato positivo, quindi troverà una squadra molto carica da questo punto di vista che vuole riconquistare un po' il pubblico. Quindi non è assolutamente scontato una vittoria del Napoli al Torino, insomma, secondo me stesso? No, secondo me no, perché è una partita proprio difficile perché a parte che viene dopo un impegno sempre in Europa League per il Napoli, quindi un'altra partita sta accusando queste partite, le tante partite in Napoli e quindi si trova anche se giocando di lunedì c'è la possibilità di recuperare ancora di più, però è proprio forse la situazione del Torino quello che si dà maggiori problemi perché quattro sconfitte consecutive per il Torino sarebbero importanti. E' vero, è vero, mister ma il Napoli può pensare davvero a questo punto di acciuffare la Roma al secondo posto o la Roma, diciamo, è superiore? Ma secondo me non è che sia superiore, il problema del Napoli è che ha ancora tutte queste competizioni, la Roma ha solo il campionato per cui può guardare al campionato con più così tranquillità e il Napoli con Europa League, la Coppa Italia ha degli appuntamenti ancora importanti e che ripeto sono competizioni che danno un certo prestigio, quindi il Napoli non può abbandonare queste piste per dedicarsi completamente al campionato, ciò che invece può fare la Roma, però ripeto sta dimostrando Benitez di saper gestire molto bene la Rosa, quindi può anche essere che anche in campionato il Napoli piano piano possa avvicinarsi ancora alla Roma. Roma-Udinese la vede come una partita scontata per i giocossi? No, di scontato nel calcio non c'è niente, l'Udinese ha dimostrato con il Milan di essere in una buona condizione, ha avuto momenti più difficili durante l'annata, adesso si è ripresa e anche per loro può essere una partita per dare continuità a quello che ha fatto con il Milan. Invece l'Inter la vede effettivamente si è ripresa, ma già vi lo sappiamo, in primavera fa sempre grandi cose, insomma Verona-Inter come la vede mister Fussi? Il Verona è un'ottima squadra, una squadra che sta facendo un ottimo campionato, anche se è normale che in un certo momento della stagione queste squadre dette provinciali possano un po' accusare qualche calo di tensione, però è una squadra che ha fatto bene, per cui anche per l'Inter non è una partita facile, anche se loro sono cresciuti in queste ultime partite, però andare a giocare la partita a Verona non sarà facile. Mister, ultime due curiosità, un aneddoto di quando lei era a Napoli, chiedono in molti tifosi del Napoli, che la ricordano con grande affetto, magari ad avere un giocatore come Fussi oggi nel Napoli, un aneddoto che la lega all'esperienza azzurra. Sarebbe molto lungo perché l'esperienza azzurra è stata bella, intensa e piena di bellissimi ricordi, io non posso dimenticare la sera della vittoria in Coppoguefa perché al di là di tutti i napoletani che erano a Stoccata quel giorno quando arrivamo a Napoli, era impossibile tornare dall'aeroporto a Napoli per quanta gente ci fosse sulle strade, queste sono cose che ti rimangono dentro penso e sono difficili da cancellare. Certo, certo. Mister, lei aveva la Coppa UEFA, ma questa Juventus che in campionato sembra di un altro pianeta, no? Eppure poi va a giocare in Europa e non si dimostra così forte, ma davvero il nostro calcio rispetto a quando giocava lei ha fatto molti pazzi indietro? Cosa è successo? No, io penso che sia solo per quanto riguarda la prima parte della Champions, non dimentichiamo che il Napoli ha totalizzato un numero di punti che in qualsiasi altro girone gli avrebbe permesso di andare avanti. La Juventus forse ha, diciamo così, tra virgolette snobbato la prima partita, forse sottovalutando l'avversario e complicandosi tutto il girone, altrimenti avrebbe potuto gestire anche loro la qualificazione. Secondo me, ripeto, sono state delle circostanze che hanno determinato questo, però penso che tutte e tre le squadre in un contesto normale avrebbero passato il turno in Champions, poi dopo magari c'è ancora qualche distanza con le più forti, tipo Real Madrid, Barcellona, forse anche il Chelsea, però con tutte le altre ce la si può giocare tranquillamente, lo dimostra l'Europa League dove le squadre sono andate avanti senza tanti problemi, a parte la Lazio penalizzata dalla partita d'andata, altrimenti avremmo quattro squadre tutte qualificate. E' vero mister, lei adesso insomma, io lo ricordavo, splendido protagonista sulla panchina del Real Maccianese, insomma nel 2009, ha allenato anche il Forigno, ha lasciato un buon ricordo, insomma anche lì, adesso è sulla panchina del Castello Ricone, come sta andando mister? Ce la giochiamo con altre squadre per la salvezza, non è un campionato facile perché quest'anno è un po' la Lega Pro un campionato particolare, questo di seconda divisione, per il Castellicone è la prima esperienza in questo campionato professionistico, abbiamo pagato un po' questa inesperienza, però siamo lì insieme alle altre e questo è già un dato positivo, speriamo di essere lì a lottare fino all'ultima giornata, insomma. E magari chi lo sa, un domani vedere Vuka Fusi sulla panchina del Napoli non sarebbe neanche così male, no mister? No, penso che quelli sono illusioni, non è quello il discorso che penso che ognuno è tagliato per determinare, magari su delle squadre di settore giovanile del Napoli potrebbe essere un discorso diverso, prima squadra… L'esperienza credo che sarebbe utilissima, insomma… Magari più a livello giovanile, a livello prima squadra, diciamo, la strada è molto lunga e con le tanti allenatori che ci sono diventa un percorso molto difficile. Va bene mister, la ringrazio per la sua sovita squisita disponibilità. Ci mancherebbe, grazie a lei. Buona serata. Arrivederci, buona serata, grazie, arrivederci. Grazie a tutti.